Salve ragazzi, benvenuti in apriamo a bonus battle e a summoner glue qui dobbiamo affrontare calca e brinas e gold baits insieme a shadow dragon nella prima battaglia non dobbiamo prendere i personaggi e evitare che calca e brina si unisca a formare calca e brina quindi ho portato a griass che è preso a giocare attualmente alla sb away più forte che ciò già con un sb carica e shout così lancio lo shout e tutti i miei attacchi away compreso questo sb e li dovrei uccidere immediatamente visto che il secondo obiettivo richiede fai danni oli ho portato saint cross su cecil, vanishing strike su griass e alexander su rinoa quindi questi qui bisogna colpire solo con attacchi away perchè se fate con qualche attacco singolo potete rischiare che si uniscano ecco qui sono implosi mi è bastato un hallowed vault, un blade blitz e un valefor per distruggerli con un shout attivo quindi non sono molto difficili basta comunque ricordarvi di usare solo away i single target attack sono sconsigliati battaglia veramente velocissimo ora c'è golbets e shadow dragon sono entrambe deboli all'holy uno dei obiettivi è colpire golbets o danni oli e bisogna finire la battaglia senza perdere il suo personaggio tenete presente che se date seconda importanza a shadow dragon lui può farvi black fang che vi uccide i personaggi quindi cercate di uccidere lui prima e poi pensate a golbets o comunque andate comunque diao e vi togliate il pensiero i primi boss sono completamente fisici mentre vende golbets è peggioramente magico quindi se volete vi potete portare protect per calca e brina e shell per golbets ecco comunque questi miei due personaggi morenti dovrebbero essere salvi grazie a tutti penso che shadow dragon sia finito infatti anche golbets ha già metà punti vita grazie a tutti grazie a tutti ecco qui pensi di andata pure questa è una battaglia abbastanza semplice alla fine per la prima dovete avere quanti più allora è possibile la seconda quanti più danni olo è possibile oltre questo non sono molto difficili la prima ricordatevi il protect la seconda scelta grazie per la visualizzazione a breve vostro i prossimi grazie ciao grazie a tutti